Tragedia questa mattina la stazione ferroviaria di Iesi, un operaio di 56 anni originario di Afragola nel Napoletano, ha perso la vita schiacciato da un caricatore mentre era impegnato nei lavori del cantiere. L'uomo stava recuperando del materiale lungo la banchina quando per cause ancora da accertare è stato travolto dal mezzo. Sul posto l'ufficio sicurezza del lavoro dell'Asur, gli operatori del commissariato di Iesi, la polizia scientifica per le indagini, l'area del cantiere posta sotto sequestro, la salma trasportata a torrette a disposizione dell'autorità giudiziaria.